I tempi del sistema del perfetto derivano dal tema potu che si ottiene staccando la desinenza i della voce del perfetto nel paradigma. Il tema potu non subisce mutamenti e la flessione delle voci verbali, per esempio il perfetto indicativo o il congiuntivo, è come quella di un verbo della seconda coniugazione con perfetto in ui, per esempio moneo, monui. Coniughiamo a titolo d'esempio l'indicativo perfetto. Potui io potei, potuisti tu potesti, potuit egli potè, potuimus noi potemmo, potuistis voi poteste, potuerunt, essi poterono. La coniugazione di possum non è completa, è priva infatti del participio perfetto e futuro, dell'infinito futuro, del gerundio e del supino.